Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler lasciare l'UNESCO dopo l'ingresso della Palestina e le risoluzioni che hanno condannato Israele e gli insediamenti. Pregiudizi contro lo Stato ebraico, secondo Washington. La decisione entrerà in vigore il 31 dicembre 2018. Plaude il premier Netanyahu. Coraggiosa la scelta di Trump, ho dato istruzioni per l'uscita anche di Israele.